E' una delle zone cruciali del Viale delle Dune a San Leone. Parliamo del boschetto che sorge al centro del litorale San Leonino, zona degradata e lasciata all'incuria più totale. Numerose le lamentele di quanti residenti nella zona prospicente La Flora e Incolta sono soliti assistere a spiacevoli spettacoli indecorosi, specialmente sul fronte dell'inciviltà. Con rifiuti organici lasciati macerare sotto il coccente sole di queste giornate che, oltre a far sprigionare cattivi odori, attraggono animali come ratti e quelli randaggi che infestano la centrale zona. Oltre, ovviamente, ai disagi per quanti vogliono raggiungere l'arenile passando dal boschetto, ne abbiamo parlato con il sindaco di Agrigento, Lillo Firetto, in occasione della conferenza stampa di presentazione del prossimo ferragosto. Il boschetto è la parte prospicente al litorale barneare, come tale è evidente che non è previsto che in quella parte lì si facciano le tendopoli, si allestiscano delle casupole, si vada a pranzare rilasciando le cose che vengono rilasciando. Vi è un preciso divieto, in ciascuna traversa sarà affisso il relativo divieto, ma ripeto, anche qui tutto sta al grado di civiltà che ciascuno riuscirà a spendere. Se cominciamo a far comprendere a tutti quanti che chi realizza questo tipo di comportamenti non realizza un comportamento virgolettato di tipo chic, ma cominciamo ad emarginarlo, è evidente che questa operazione di educazione collettiva comincerà a prendere piede. Io comincio a vedere tanti i miei concittadini che si indignano giustamente per questo tipo di comportamenti e che mettono in piedi anche dei meccanismi, vorrei dire, di denuncia, cioè chiamano il comando di polizia municipale, chiamano le forze dell'ordine. Ecco, quello che noi dobbiamo cominciare a fare. Se parte questo reticolo di condivisione civile, alla fine ne verremo fuori. Impegno di pieno attivismo anche da parte dell'associazione ambientalista Mare Amico di Claudio Lombardo. Questo boschetto andrebbe recintato, andrebbe gestito da un'associazione, da una cooperativa, si deve vedere, perché non può essere abbandonato lì e la domenica viene preso d'assalto dai vacanzieri inquinatori che poi lasciano l'immondizia lì. Grazie. Grazie. Grazie.